Cinque eroi della forza valorosa Terrorbot, i cinque del commando maletico Tecnobot e Terrorbot si aggiungono alla grande collezione Transformers con Excavato, i terribili guastatori Aerialbot, l'invincibile battuglia acrobatica Combatticos, eroi della forza guerriera Protectobot, l'alleanza della forza buona Dalla grande collezione Transformers Tecnobot e Terrorbot a 12.000 lire Implaccabili da G